Stiamo a scuola a minori al secolo luglio. Cosa vuol dire? Ma c'è il giornale! Ma io devo andare al mare! Ma io ci vai! Vuoi divertirmi? Cioè quando mi ricomincio il pesagno? D'agosto? No, e farai... Oh, forse si metteranno anche il pesagno. Non ci voglio credere, no. Ma ragazzi! Dini che uno scherzo! Che scherzo che ha fatto Barbara, Lera e Lara! Beh, ce l'hanno meritato un po'. Anche se Barbara se l'è presa di grande per lo scherzo che hanno fatto. Poverino! Oh, lei, insomma, stai bene. Leder, non ti dovevi preoccupare. Non lo sai, perché la piccola è nata da poco. Insomma, non è che sia proprio calmo. Oh, no, assolutamente non vi preoccupate. Stanno bene. Tutte e due state davvero molto bene. Ora però dovrei tornare a casa. Comincia a farsi sera. Sì, Sleepy, scusate il disturbo. Ma quale disturbo? Oltre ad essere dei miei pazienti, siete anche dei miei amici. Ora però devo andare. Ciao! Ciao, Sleepy! E grazie. Ora mi metto il mio vestitino. Sto più comoda. Ormai si è fatta sera. Speriamo che Sleepy non sia tanto stanca. Non vorrei mai farla stancare. Oppure disturbarla. E che lì si preoccupa sempre. Piccolino, tu come stai? Dormi di gusto, eh? Beh, per te fa bene dormire. Lei, se vuoi qualcosa da mangiare? Un bicchiere di latte, dei biscotti? Mi sa che il bicchiere di latte, dei biscotti, li ho berrò e li berrò solo io. Li berrò e li mangerò. Ah, fammi andare in cucina. Dormono proprio di gusto. E pure io sono. Ora guardo questo. La redazione mi ha riferito che oggi farai la scelta. Sì, Maria. Oggi il mio cuore farà un nome. E oggi voglio dire quel nome. È davvero tutto molto poetico. Sei profonda, Alice. Anche se i video sono vecchi, non mi interessa, li guardo comunque. Cicchi, ma tu dormi? Come sempre. Beh, però Cicchi, guardando te che dormi, mi viene anche a me il sonno. Dusk? Dusk? Ma dormi? Un video. Un video? Spento. Ah, dormi. Consomi solo elettricità per il tuo telefono. Ora te lo metto lontano, perché non voglio che dormi con apparecchi elettronici. Fammi la mettere sulla scropania. Ecco qui. Buonanotte, Dusk. Buonanotte, Cicchi. Oh, ma aspettate un attimo. Ci sono i lollini e le lolline. Che ci fate a quest'ora? Comunque, avete visto cosa è successo oggi? Dusk si stava addormentando col telefono sul letto. No, non va bene. Apparecchi elettronici non devono stare vicino al corpo. Comunque, è ora che io vado a dormire. Anche perché tutti dormono, sono io l'unica sveglia. Mary si è presa un bicchiere di latte e è andata subito. Insomma, è crollata nel mondo dei sogni. Comunque, io vi mando un bacione, un abbraccio e al prossimo video. Ciao, lolline e lolline. Un abbraccio grandissimo a voi. Ciao, ciao. 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 Ciao.